Ciao, come ti chiami? Silvia. Ciao Silvia, sono Luca, sarò il tuo video. Perfetto. Lui e Kella, sarà il tuo pilota tandem. Sei pronta? Sì. Non sei molto convinta, eh? No, no, sono convinta, non so ancora cosa mi aspetta, quindi per ora va tutto bene. Il primo è l'incognita va bene così. Esatto. Mi raccomando il sorriso, ci vediamo dopo in aereo. Ok, grazie. Ciao. 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 È viva, è buono. Grande! Sono viva! Eh, allora, è che volete vivare, ma... che fai? Oh, mamma! Ah, allora... Vai, rigola! Eh? Vai, rigola! Eh? Tiratemi su, sì! Aspetta, vieni, ci si fa una foto tutti insieme, eh? Eh, eh. Eh, che fai? Oh, mamma! Eh, che fai? Eh, che fai? Grazie, bella! Ci vediamo la prossima, eh! Che te il corso lo devi fare. Eh? Eh? Lì, ci vediamo la prossima.